Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono ProGamerKiller che poi cambierà anche il nome e oggi siamo di nuovo qui al Cerceo con il video che è uscito oggi pomeriggio, andatelo a vedere questa è la lanterna che stiamo per lanciare e quelle sono tutte quelle che abbiamo lanciato, quelle piccole lucine che è bellissime così, prima ce n'erano anche di più, cioè guardate nel fondo ce n'è una poco piccola ProGamerKiller, guarda che prendi che? eh nonno, a te non ti riprendo lanciate provate no perché tuo papà ha detto di no, Maya tu lo puoi dire senza farlo vedere ok ok fatela partire dai mamma c'è un buco, c'è un buco qua Maya si sta bucando di questo lato, qua c'è si vabbè volerà mettete pausa il video adesso e dite se volerà questa lanterna Dylan, hai il tuo telefono o hai lasciato a casa? ho lasciato a casa, ma lanciate, tre ok, adesso va il video eh la canzone ma io c'è perfetto ma io, perfetto è di sì sta per volare questa vola adesso e ha volato tutti quelli che hanno scritto che volava hanno vinto una si chiamata come tua madre qua c'è il mare poi siamo veramente al mare challenge di notte al mare ma è calda l'acqua e no poi scusa poi c'è guarda che bello ringrazialo ringrazialo il telecamera man grazie telecamera c'è la tua migliore amica maio faccina oddio non mette a fuoco c'è un altro acquario no questo è il mare le lanterne sì guardate adesso ne stiamo facendo un altro ecco sì è un blog e quanti sei iscritta? ancora già era per togliere il canale uno ah sì no non me lo dà ancora non ti sei iscritta c'è aspetta ora vloggo un po' io poi un giorno vedrete proprio i video di quelli belli perché li farà il computer oddio guardate che bello metto la torcia mamma noi andiamo a vedere i grilli i grilli? cerchiamo dei grilli alla cassetta lì di plastica con il mio telefono sempre? sì perché devo mettere la torcia possibile accendere torcia i flessi non sono altri ok vieni Maya dov'è Maya? dove andate? andiamo alla cassetta al telefono Maya no mi serve la torcia Maya vieni andiamo alla cassetta dei grilli guardate c'è l'ancione dove vai? sei caldo sei parti vieni Maya andiamo ragazzi adesso noi andiamo in una cassetta con i grilli e forse chiuderò qual video anzi no dopo vi faccio vedere come si parla veramente le canzoni anni 90 non ci vedete com'è The Ciran è tutto rosso ecco la discoteca ti riprendo io ti riprendo io ok nel telecamera man gorla andiamo in questa casa oh mamma mia che è un po' brava se non stai venendo qua se c'è 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 che non la puo' ciao Kimmy cosa ti devo fare questo ciclo? si deve fare così guarda no 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 devo scendere prova a scendere anche se non c'entro se mi sporco i pantaloni bianchi me li ricompro io non è vero non è che c'entro l'ho fatto punta vedi adesso lui dovrà provare questo no 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 non lo farei col telefono ok è quello vabbè guarda no no per me è troppo vicino maia così sei troppo così sei troppo lontano racconta se gli i tuoi capelli aiutami vai no 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 La la la